Prosegue l'opera di divulgazione delle esperienze e ricchezze artistiche e figurative del nostro territorio portata avanti dalla Fondazione Banca del Monte nel suo Palazzo delle Esposizioni, oggi anche insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo. Con la consulenza artistica di Alessandro Romanini e dopo l'esposizione dentro la collezione e dieci anni di arte contemporanea al Palazzo delle Esposizioni, il secondo decennio si apre con un altro anno denso di appuntamenti, sempre tutti offerti alla città e ai visitatori con ingresso libero. Ad aprire le manifestazioni, dal 16 marzo fino al 14 aprile, la mostra dedicata a Beatrice La Visionaria, artista lucchese prematuramente scomparsa all'età di 31 anni. Sarà poi un susseguirsi di esposizione dedicate ad artisti prevalentemente della provincia di Lucca, a testimonianza dello stretto legame tra il Palazzo delle Esposizioni e il territorio. Questo qui è l'undicesimo anno e se era significativo il decimo perché completava un periodo, questo è pure significativo perché ne apre un altro e quindi si disegna un po' quello che è la prospettiva futura. Quindi guardiamo in avanti. Certamente vogliamo mantenere le stesse caratteristiche, nel senso di essere questo palazzo un'opportunità per l'arte locale, per poter emergere, presentarsi e avere questa occasione, ma nello stesso tempo è anche un'opportunità per tutta la città, per confrontarsi con l'arte e in questo senso anche dare un po' un indirizzo e quindi anche un orizzonte un po' più ampio rispetto solo all'arte del territorio e confrontarci con l'arte, chiamavola nazionale e contemporanea.